Benvenuti, cari follower, a questo nuovo e importantissimo video per tutti i nostri follower del sud Italia, in particolare per le regioni dell'isola di Sicilia. Sull'isola sono previste alluvioni e piogge molto forti in quantità che potrebbero avvicinarsi o superare i 300 mm in breve periodo di tempo, che può portare alla formazione di torrenti e inondazioni, e questo è durante il periodo dall'8 al 12 febbraio 2023, e la ZIA si intensificherà alla fine di questa settimana, prima di entrare nei dettagli, tutti coloro che hanno guardato questo video lo condividono con tutti e su tutti i social media, al fine di evitare qualsiasi perdita materiale o umana dovuta alla prevista forza della pioggia. Se ci sono aggiornamenti molto forti dai modelli digitali globali, l'icona del modello tedesco prevede quantità di pioggia superiori a 200 mm in Sicilia entro 24 ore, la stessa cosa, il modello europeo si riferisce a quantità vicine o superiori a 300 mm in una circostanza standard, quindi, è molto probabile la possibilità di torrenti e alluvioni, per informazione si saprà la Sicilia, anche abbondanti nevicate e buoni accumuli, per cui si richiede prudenza e prudenza per le prossime ore, e la validità del bollettino decorre dal 7 e 8 febbraio al 12 febbraio 2023, cautela e prudenza.